Va bene, ultimissima cosa, siccome è arrivato l'autunno, è contento che non deve più girare da ministro dell'interno in mutande per le spiagge italiane come ha fatto quest'estate? Perché in mutande? In mutande, costume, costume, calzini, calzoncini... Ma lei in spiaggia ci va con lo smoking o in costume? No, 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 ma diciamo ministro dell'interno così tanto in giro con i calzoncini, lo slickino, noi non lo avevamo ancora visto. E c'è questo difetto, che io da anni vado in vacanza con mio figlio a Milano Marittima e guardi un po', sia io che mio figlio ci mettiamo in costume da bagno in spiaggia. Ma guardi un po', anch'io quando vado al mare mi metto in costume da bagno, ma non lo farei da ministra dell'interno e non farei comizi in spiaggia da ministra dell'interno in costume da bagno. Ma cosa succede di male in spiaggia? Non è un luogo di degrado la spiaggia? No, è una questione di stile, la forma e sostanza. Ma era così una curiosità perché io pensavo... Quando tornerò a fare ministra dell'interno, la denuderò, tornerò in spiaggia a Milano Marittima in costume da bagno. E magari senza la pancia. Questo per l'occhio delle ragazze. Omo de panza, omo de sostanza. Grazie, grazie, stavo dicendo ministro Salvini, ex ministro Salvini, buon lavoro.